buongiorno buon pomeriggio a tutti grazie per essere qui momento importante perché c'è un doppio evento l'annuncio di una partnership importante e quella presentazione delle di due delle maglie della prossima stagione la prima quella ufficiale e la seconda da trasferta così coniando dei vecchi dei vecchi nomi utilizzati nel nostro mondo la il primo è un evento direi importante per un club perché l'annuncio di una partnership sulla maglia è uno dei momenti di passaggio della società che va sottolineato con con grande enfasi il nostro piacere è quello di avere con noi un'azienda che è un'azienda giovane e molto dinamica perché nata meno di vent'anni fa quindi è cresciuta rapidamente con grazie al suo azionista che è presidente che abbiamo abbiamo qui vicino a noi e con un fatturato anche importante ma un'azienda poi che rappresenta anche questi valori del territorio perché è un'azienda emiliana e quindi continuiamo a consolidare e rafforzare il rapporto fra il club e il territorio è un'azienda però dinamica giovane che compete sui mercati italiani e internazionali lo fa con con successo da molti anni e che ha avuto con noi un'evoluzione nel rapporto perché è iniziata come partnership legata la l'abbigliamento della squadra e delle divise delle hostess e dell'ospitalità allo stadio e poi si è evoluta fino a raggiungere questa questo rapporto odierno che vede la presenza del marchio ligio sulla maglia del bologna è un rapporto che è stato possibile grazie anche alla al lavoro del del nostro dei no dei ragazzi del del marketing di crisi che hanno allacciato e costruito nel tempo questa questa relazione e che ha trovato accoglimento favorevole da parte dell'azienda di ligio e per quanto ci riguarda è un altro passo come ho avuto modo di dire anche di recente comunque a fronte di un mercato delle sponsorizzazioni calcistiche che continua a crescere ma cresce a una cifra noi siamo cresciuti negli ultimi tre anni in maniera superiore questo testimonia che comunque il primo obiettivo quello di riavvicinare degli sponsor del territorio e anche italiani di altre aziende italiane di al marchio al marchio del nostro club è stato raggiunto ne siamo soddisfatti questo non significa che da da qui in poi dobbiamo comunque continuare a crescere migliorare e a rendere sempre più appetibile per per i nostri partner l'investimento in comunicazione che si realizza attraverso il bologna detto questo non occupo più tanto spazio e passo la parola a marco e che ci descrive anche le motivazioni che hanno portato l'azienda di investire in questa partnership con noi grazie grazie buonasera a tutti e beh innanzitutto volevo ringraziare le persone qui presenti l'amministratore claudio finucci il presidente che non è qui già saputo quel quale ho avuto una conversazione molto interessante prima di decidere iniziare questo titolo di collaborazione e non ultimo christopher winterling per l'attività svolta e tutti questi anni e per averci portato a bordo e grazie per questa opportunità di giù è una realtà che tanti di voi conoscono la realtà che ha sempre avuto un rapporto importante nei confronti dello sport alcuni di voi sapranno che siamo stati per cinque anni abbiamo gestito la pallavolo femminile nel serie a 1 e noi abbiamo sempre che è venuto nei valori dello sport oggi essere qui come main sponsor di lugio è per me un elemento di grande gioia e di grande orgoglio è chiaro che questa in questo ruolo di imprenditore ma anche di emiliano mi porta a fare un passato un salto nel passato in quelle che sono state le emozioni che ho vissuto da bambino nella mia parte di infanzia in quanto mia zia mi ha trasmesso l'amore verso questa società e questa squadra e per cui oggi essere parte ed essere qui in questo momento mi riporta a dei momenti emotivi che vivo con voi e che voglio trasferirvi essere qui è per me è importante in quanto il Bologna rappresenta non semplicemente un aspetto emotivo che mi corrisponde ma soprattutto perché Bologna è una società blasonata una società ricca di storia una società che ha una permettetemi una tifoseria straordinaria ho avuto la possibilità negli ultimi anni di frequentare lo stadio e devo ammettere che questa emozione che vivo all'interno di questo stadio è qualcosa che mi riempie il cuore ed è uno dei motivi che mi ha spinto a partecipare a questa vicenda non ultimo credo sia importante sottolineare che l'arrivo di Giorgio Saputo ha portato a questa squadra palcoscenico che merita e credo tutti stiano guardando con grande ammirazione e con un pizzico di desiderio il fatto che abbiamo un presidente straordinario al nostro fianco perché Giorgio entra nel mondo dello sport e soprattutto del calcio io credo che la moda e lo sport abbiano due cose in comune certamente la possibilità e la capacità di dare emozioni e questo è sicuramente un passaggio fondamentale ed esiste anche un connubio tra i follower Giorgio e i tifosi del Bologna la passione sono tutti animati dal fatto che trovano nel mondo appunto della nostra squadra che Giorgio e nel Bologna una grande complicità. La decisione che è stata presa è stata presa ovviamente con l'obiettivo di dare visibilità a Giorgio Uomo che è una parte importante del nostro progetto di crescita e grazie anche alla collaborazione con Giuseppe Nardelli titolare di Cocana e licenziatario di Lugio abbiamo deciso di siglare questo accordo. Come vi ho detto la nostra idea è quella di promuovere il progetto dell'uomo e per me dal momento che ho scelto al di là del cuore che mi porta a questa squadra, a questa maglia sicuramente ho trovato all'interno del Bologna Calcio alcuni aggettivi che secondo me sono fondamentali per dare un senso a quello che stiamo facendo. Trovo nel Bologna ho ritrovato l'umiltà dell'impegno, l'eleganza nel cogliere le sfide, il rispetto verso i valori dello sport e non ultimo il modo garbato come questa squadra si presenta sempre nei campi di calcio e la coerenza. Oggi noi partiamo con forte entusiasmo in questa vicenda e siamo sicuri che questo tipo di collaborazione potrà dare al nostro progetto Lugio Uomo un'opportunità per poterci consacrare come un'azienda che tende ad esprimere e a sottolineare l'orgoglio italiano e questo tipo di collaborazione ci potrà permettere, io di questo ne sono convinto, di esprimere i nostri valori e i nostri codici del DNA. Grazie per l'attenzione. Buonasera anche da parte mia, prima di parlare un po' su questa partnership e anche i motivi della scelta volevo ringraziare due persone, due persone che amano i nostri colori, che amano questa società, che amano i tifosi, che sono Marco Marchi e Giuseppe Nadelli. Sono stati i due che tre anni fa hanno creduto in questa opportunità, hanno creduto nel nostro Presidente, in questo nuovo percorso, hanno creduto in questa bellissima città, in questa società con una storia importantissima e hanno creduto in questi tifosi unici nel mondo. Tre anni fa abbiamo cominciato questa collaborazione con la semplice funitura della prima squadra, dico semplice perché in realtà è una cosa molto complessa, però la funitura della prima squadra, la funitura anche di tutti i dipendenti e delle oste senza un'ospitalità. Oggi rappresentare o presentare la maglia vuol dire che si è creata una stima fra di noi, si è creata molta fiducia, ovviamente anche una grande soddisfazione, ma poi anche la voglia di crescere insieme. Quali sono i motivi che hanno portato a questa scelta? I motivi in realtà sono molto semplici e anche molto coerenti con quello che abbiamo cominciato tre anni fa. Abbiamo cercato un'azienda che rappresenta l'eccellenza del territorio, come detto prima il Totò Finucci, noi su questo stiamo lavorando da tre anni, vogliamo ogni giorno rafforzare il legame col territorio, l'Iuccio rappresenta questa eccellenza, è un'azienda in forte crescita e quindi siamo contenti di dare continuità. Colgo questa occasione anche a ringraziare FAC, che è stato il nostro partner per tre anni, rimane nel nostro portafoglio dei clienti, quindi rimane partner e con loro abbiamo vissuto insieme una bellissima esperienza. Il secondo motivo è che abbiamo cercato un'azienda sana, un'azienda in crescita. Oggi l'Iuccio sta crescendo, sta fattorando più o meno 350 milioni di euro e sta crescendo non solo in Italia ma anche all'estero, che ovviamente ci può dare anche noi come società una possibilità di aumentare la visibilità all'estero. Abbiamo cercato un'azienda che ha il Bologna nel cuore, come ha detto prima Marco Marchi, il suo amore per il Bologna nasce da piccolo. Lui è venuto spessissimo allo stadio, ci siamo sentiti spessissimo come possiamo crescere insieme, cosa possiamo fare per i nostri tifosi, i tifosi femminili, perché l'Iuccio è molto forte nell'ambito femminile ma anche maschile, cosa possiamo fare anche per i tifosi maschili. Cosa possiamo fare per i nostri giocatori, perché i giocatori ormai sono diventati dei superstar che si interessano per la moda, che sono molto interessati ai diversi capi, quindi stiamo studiando anche per l'anno prossimo magari su una novità che vogliamo poi presentare anche alla prima squadra, per rendere la nostra squadra che poi quando va in viaggio a rappresentarci in un modo anche magari un po' più innovativo. Quindi questo era il terzo motivo. Il quarto motivo è quello che ha accennato prima Marco Marchi, che è il connubio fra la moda e il calcio. Secondo me è un connubio molto credibile, quindi anche questa è una collaborazione molto credibile. È un connubio, come detto prima, i calciatori sono sempre più interessati a come vestirsi, vogliono vestirsi in un modo elegante, in un modo sportivo, in un modo pulito, avere la loro personalizzazione, quindi sono tutti elementi che rendono questa collaborazione molto credibile. Quindi considerando questi motivi siamo convinti che Liu Jo è il partner ideale per il prossimo campionato, il contratto durerà un anno, poi speriamo che questo sia solo l'inizio di tanti altri anni e siamo veramente felicissimi di poter cominciare questa collaborazione. Siamo anche qua per presentare la prima e la seconda maglia. Come vedete a sinistra, diciamo, parlando un po' sull'eleganza, parlando su avere una maglia pulita, secondo me i due prodotti rappresentano perfettamente questa idea. Le novità delle maglie. La prima maglia, poi fra l'altro le due maglie ovviamente poi saranno già indossate durante il ritiro a Pinzolo. La prima maglia ha come grande novità un logo più grande, quindi abbiamo tenuto molto a avere un logo che rappresenta la nostra società che possiamo evidenziare di più, sono 8,5 centimetri invece di 6,5 e un patch siliconica, quindi vuol dire più elegante ma più anche leggero, quindi anche più comodo per i nostri calciatori. Un giro collo, poi abbiamo adesso un outline platino per rendere la maglia più elegante, una cosa che abbiamo diviso con i nostri tifosi che è piaciuto molto. La maglia per sé è un po' più leggera, quindi una maglia pulita, leggera, molto elegante anche grazie all'IoGio che ha scelto questo colore, che ha scelto questo logo, secondo me è una maglia bellissima. Lo giro un attimo così vedete anche il retro. Se non c'è scaduto. Quindi sul retro ci sarà di nuovo il Lumia. Invece la seconda maglia abbiamo preso spunti dal campionato 80-81 in cui la squadra ha fatto benissimo il settimo posto, speriamo di avvicinarci a questo posto, però abbiamo scelto questa maglia non solo per questo motivo ma anche per la sua eleganza. Volevamo presentare una nuova maglia, sembra in bianca però con nuovi elementi, per cui questa scelta. Abbiamo scelto anche lì sul retro dei colori che la squadra ha indossato in questo campionato, non nel campionato successivo che era stato meno positivo, dove i colori erano poi blu, quindi questi sono i colori che la squadra ha indossato negli anni nel campionato 80-81. il contrario della prima maglia, lì c'è un collo AV, invece il giro collo, poi stessa qualità, body fit, quindi stessa leggerezza. Come ogni anno la maglia e le maglie abbiamo sviluppato insieme con Macron, quindi ringrazio Macron per la loro disponibilità, per la loro creatività. Noi ogni anno stiamo provando a inventarci anche delle novità che non è sempre facile, perché la prima maglia ovviamente rispettiamo i colori storici, però sono maglie che a me personalmente piacciono tantissimo. Abbiamo anche un terzo punto che è la votazione della terza maglia. Come sapete noi stiamo provando in ogni attività che facciamo di coinvolgere i tifosi, quindi quest'anno vogliamo coinvolgere i tifosi nella votazione della terza maglia. La votazione comincerà oggi, tutti gli abbonati del campionato 17-18 hanno la possibilità di votare questa terza maglia. La maglia poi sarà in vendita indossata dalla squadra dalla metà novembre in poi e saranno a disposizione quattro colori. Una novità che vedete su questa maglia è il nottuno che vedete integrato nella maglia come in passato lo stadio, perché volevamo ovviamente scegliere un simbolo della città per rendere questa maglia unica. C'è una novità sulla quarta scelta che è la maglia nera dove il logo è tono su tono. I giornalisti non possono partecipare, no Carlo? I giornalisti non possono partecipare. Non so chi ha fatto l'abbonamento l'anno scorso. Quindi vuoi dire solo tu. Va bene. Facendo le loro personali preferenze. Possono puntare solo gli abbonati del campionato 17-18. Sul nostro sito. Sarà mandata una mail a tutti gli abbonati con le procedure per votare tramite il sito. Però ti arriva la mail e tu dovrai digitare il tuo codice d'abbonato. Quindi non ci sono. Non ci sono. Non ci sono. Per filare. Quando si chiude? Il 6 di luglio. Scusi, pantaloncini? Bianco? Blu? Blu? Sì. Magari Tommaso tu... Così io tolgo l'occasione di presentarvi Tommaso Ceretta che insieme con la Magron gestisce tutti gli aspetti legati al merchandising. Spiega un po' i pantaloni e poi anche i calzini. Scusate, la domanda era sul? Sul calzini. Sul pantaloncino la maglia rosso-blu avrà il classico pantaloncino bianco, calzettoni blu con risvolto rosso, la maglia away avrà invece il pantaloncino blu e il calzettone avrà una fascia rosso-blu che ricorda quella delle spalle al centro del calzino. La cosa che volevamo sottolineare è che sul sul logo del club abbiamo ripristinato i colori originali perché abbiamo preso i pantoni che sono legati diciamo alla maglia quindi il rosso-blu è molto più vivo rispetto a quello del passato e quello diventerà comunque il logo ufficiale del club. Sì, confermo, pantaloncini e calzettoni sono tutto tinta unita, esatto. Come si chiama il terzo colore, esattamente? Secondo voi? Noi l'abbiamo definito la Nettuno come colore della maglia, lo troverete quando riceverete newsletter con l'invito a cliccare sul link, però è un blu petroglio sostanzialmente. Il terzo. Secondo? E si riferisce un po' al colore del Nettuno, ok. Invece il secondo è il blu nevi, classico nostro ripreso dal training. La prima è colorazione platino e l'ultima è nera. Tutte le possibilità di scelta. Quattro. Ah, quattro. Manca un colore o... No, vuoi ancora sapere che c'è il decente? Probabilmente quattro anni. Ma io avrei fatto un po' il caldo. Va bene. Allora, siccome presumo che faccio il lavoro di Carlo, qualche domanda l'avrete, ecco, e limiterei all'inizio quelle legate alla presentazione dell'accordo e delle maglie. Poi se qualcuno vuol chiedere qualcos'altro fuori tema, a piacere, come si faceva a scuola una volta, siamo disponibili. Le quattro domande. Un anno per... Quando ci facciamo di questa situazione? Aspettavo un... Scusi. Ecco. Un anno rinnovabile. Buongiorno. 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 Quanto è stata la responsabilizzazione di un anno sulla maglia del Bologna e che cosa si aspetta in termini di risultati sportivi, però? Allora, diciamo che su questo tema ci siamo confrontati e preferiremmo evitare in modo preciso la risposta. spero sia pochissimo, visti i risultati che sicuramente ci porteremo. Noi abbiamo grande fiducia che la squadra quest'anno possa esprimere quella... come posso dire, quella freschezza e quella dinamicità che purtroppo negli ultimi anni è venuta un po' a mancare. Quindi, non lo so, noi crediamo di essere un'azienda fortunata. In tutti questi anni devo dire che il nostro processo anche di collaborazione ha sempre portato bene. Sperando che continui anche su questa splendida maglia. Quindi, alla sua domanda, cosa ci aspettiamo? Di divertirci. Si è dichiarato tifoso, giustamente, come tutti i tifosi, è giusto che si aspetti di divertirsi. Alessandro Mossini, Corriere di Bologna, Radio Bologna 1. Solo per curiosità, nel corrispettivo, senza starlo specificare, c'è una parte legata anche al rendimento della squadra o no? O è un fisso? Dunque, diciamo che su questo tema abbiamo dibattuto, non siamo ancora arrivati nella fase definitiva, però diciamo che da sportivo e da tifoso, sicuramente se la squadra potrà farci gioire, saremo più sensibili nel partecipare a quelli che potranno essere dei bonus. Visto che avete mercato anche estero, se c'è una particolare zona, area, che vi piacerebbe che Bologna sviluppasse, tipo comprando un giocatore, queste cose qua classiche di marketing, moda, calcio, visto che vi piace tanto. Ma comunque, diciamo che la cosa che mi ha stupito, pur essendo italiani, e vivendo ovviamente con grande passione la realtà del calcio italiano, devo dire che il calcio all'estero ha una fortissima appilla. Non solamente nel mondo maschile, dove noi in questo momento stiamo cercando di dare investimento, quindi visibilità e crescita, ma anche nel mondo femminile. Quindi, Liu Zhou è un'azienda estremamente presente in Europa, e per Europa intendo anche l'ex Unione Sovietica, oggi Russia, piuttosto che i paesi satelliti, anche se non vengono definiti esattamente Europa. Siamo presenti in modo importante nel Middle East, e anche in Asia c'è una fortissima volontà di crescita, e abbiamo cominciato ad aprire alcuni spazi importanti in Cina, piuttosto che in altre realtà come Singapore e la stessa Thailandia. Quindi, è chiaro che tutto ciò che in qualche modo porterà visibilità al Bologna calcio, per noi non potrà essere che un vantaggio. Credo noi abbiamo dei responsabili estremamente capaci, che potranno sicuramente fare la scelta migliore per il Bologna Football Club, e a questo punto noi ci rimettiamo al loro giudizio per poter far sì che il Bologna, a prescindere dai giocatori che arriveranno e quindi dal brand awareness che potranno esprimere, possano invece dare divertimento e gioia a un pubblico che lo aspetta. Per adesso, diciamo, i nuovi acquisti abbiamo coperto geograficamente altre aree, quindi ci siamo attrezzati, Polonia, Olanda, piano piano. Adesso li sceliamo anche su base dell'eleganza del marchio, sull'outfit. Io ce l'ho qui da cinque anni questa domanda, per cui la faccio adesso. Prima che arrivassimo. Sì, sì, assolutamente. Perché sono 19 anni che il Bologna non si diverte e non gioisce in Coppa Italia praticamente. Non avete una voglia matta, come magari ce l'ha anche questa tifoseria, di cambiare la tendenza, provare a vincere cinque partite e arrivare in finale? Cioè, è un'eresia così grande. Pagherete da scamia per arrivare in finale. Anch'io guardo, dottore. Però sembra un po' una maledizione quella della Coppa Italia, perché anche l'anno scorso effettivamente nessuno si aspettava che uscissimo al primo turno col Cittadella. Sì, è un obiettivo della stagione, ne ho parlato anche con Inzaghi, perché è forse l'unico vero titolo che un club come il nostro per ora può sognare. Quindi è giusto che la Coppa Italia venga affrontata con la dovuta concentrazione e attenzione. Su questo mi sono anche battuto in Lega per il cambio di regolamento. Sapevate che fino all'anno scorso le partite a turno unico si giocavano nel campo della squadra meglio classificata nel campionato precedente, che era comunque un'ingiustizia, tra virgolette, sportiva. E quindi anche quel vincolo, quel regolamento è stato rimosso. Quindi ci sono le condizioni per far bene. Quindi è vero. Sarebbe bello, ripeto, pagherei tasca mia ai giocatori pur di arrivare in fondo alla Coppa Italia e pensare di poter un domani disputare con una semifinale, una finale della competizione. Il bonus comunque non è legato alla Coppa Italia. No, però ce lo metto perché se do una limiteria entra qualcosa. Tra l'altro, l'altro c'è la campione? Siamo sempre sulle logiche di Lugio. Riprega su Lugio? No, vabbè, allora proviamo a vederla così. Avete studiato anche delle strategie, delle logiche. Parlavate di endorsement per esempio per il Bologna che vede in un brand che comunque ha un mercato estero una possibilità di visibilità in più del marchio. Ecco, avete pensato già a delle strategie prima ancora di firmare le carte? Avete una politica di attivazione delle sponsorizzazioni che state per mettere in piedi? Credo che un'azienda che decide di portare avanti un progetto di sponsorizzazione non è semplicemente il fatto di mettere il proprio logo su una maglia ma di abbracciare una filosofia e le persone che ne fanno parte. quindi io ho estrema fiducia in questa compagine sociale credo che siano persone per bene siano persone capaci siano persone che stanno costruendo qualcosa che non è semplice in un mercato che ovviamente vede il Bologna con meno possibilità delle altre squadre però noi abbiamo fiducia e quindi credo che questo rapporto che è iniziato con grande passione e anche con grande umiltà siano gli argomenti corretti per poter fare un lavoro sinergico io ho molta fiducia di Christophe che rappresento oggi l'ufficio marketing e sono sicuro che con lui riusciremo a trovare delle formule che permetteranno al Bologna Calcio e all'Ugiuomo di fare un percorso interessante insieme. In bocca al lupo. Grazie. Dottor Fenucci. Grazie. Vado. Preto. E oggi è la giornata dove viene data l'ufficiosità mettiamola così di uno scambio per esempio tra Sassuolo e Bologna è stata una settimana abbastanza intensa da questo punto di vista in questa operazione e allora le chiedo due cose a che punto siamo se è quasi una cosa fatta e la possiamo dare per fatta e poi fino a che punto si spingerà il Bologna in un percorso di rifondazione perché di fatto non sembrava almeno per quelle che erano le premesse fino alla penultima di campionato quando parlò il direttore sportivo per logiche che possono essere più che comprensibili fino a dove si spingerà questa ricostruzione della Rosa quindi che cosa ci possiamo aspettare da qua al mese e mezzo che ci separa dalla chiusura del mercato. Per quanto riguarda, parto dalla fine, la ricostruzione credo che sia facile capire che l'arrivo di un nuovo allenatore di un nuovo staff comporta anche una revisione di quello che è il percorso tecnico intrapreso fino a questo momento perché ogni allenatore ha le sue idee e i suoi moduli di gioco preferiti che poi adatta magari anche ai calciatori che ha a disposizione ma sulla via di indirizzo ovviamente suggerisce un percorso di carattere tecnico che viene recepito, è tattico, viene recepito ovviamente dal direttore sportivo e nella realizzazione, diciamo nell'impostazione della campagna. Per cui questo indirizzo penso sia abbastanza chiaro, cioè quello della difesa 3 che ha il carne alla difesa 3, quindi del centrocampo, quindi quei 3 centrocampissi quindi 3-5-2, ma senza poi adesso andare molto nel dettaglio e questo determina delle scelte conseguenti per ora tutti gli arrivi, anche se le strategie sono state finalizzate quindi al perseguimento di questo modello, questo modulo di gioco per cui è necessario qualche esterno di attacco di meno, è necessario forse trovare una seconda punta e i difensori adesso ovviamente sarà poi anche il nostro Pippo, sarà Pippo Inzaghi che valuterà durante il ritiro, anche se tutti quanti in partenza sembrano molto più adatti alla difesa 3 che alla difesa 4, anche quelli arrivati l'anno scorso quindi può essere lui verificarne ovviamente l'adattabilità al sistema di gioco però per adesso le operazioni che sono state fatte sono state impostate con questa filosofia e di conseguenza anche il fatto di aver pensato con il sassuolo questa operazione nasce dalla necessità di individuare un giocatore che quando ha giocato da seconda punta ha sempre reso bene e magari, tra virgolette dico sacrificare perché comunque Di Francesco è un buon calciatore un giocatore che magari troverebbe meno spazio per esprimersi in un modulo diverso con Giovanni Carnevali, sapete il rapporto che c'è quindi anche fra i club e fra le persone quindi stiamo discutendo e presumo che non sarà difficile arrivare a un accordo per completezza, ma alla pari, cioè il Bologna valuta Di Francesco alla stregua del valore di mercato di Falcinello diciamo non abbiamo ancora definito però i valori dei calciatori li conoscete ma alla fine i valori non sono quelli che soggettivamente ognuno pensa sono quelli che oggettivamente vengono indicati dal mercato che è fatto dalle richieste che ricevi per i tuoi calciatori perché tu puoi chiedere anche 30 milioni per un calciatore ma se non te li da nessuno è la differenza fra valore e prezzo il prezzo lo fa il mercato e sui prezzi di mercato alla fine grandi differenze tra i due calciatori non dovrebbero esserci però premesso questo ripeto Di Francesco oggi è un giocatore del Bologna e Falcinello è un giocatore del Sassuolo e quindi è un'operazione ancora tutta da sistemare Sì Claudio lo dici questo intanto apprezzo che ci volevo l'imprenditore che tifoso che per far notare ma questo lo sapete anche voi che la freschezza e la dinamicità in queste stagioni le ultime due è mancata voi avete cambiato aria in panchina e questa è una scelta che io considero meritoria poi cominciata la campagna acquisti anzi in verità il mercato deve ancora aprire formalmente questi ragazzi che sono arrivati mi sembra che abbiano tutti un comune denominatore che sono ragazzi che voler vedere il bicchiere mezzo pieno vengono da stagioni in cui non hanno probabilmente dimostrato quello che volevano penso a Dykes, penso a Paz che anche negli ultimi sei mesi ha giocato poco Santander ha fatto cose buone in Danimarca e non nella Serie A quindi probabilmente la molla può essere a vedere il bicchiere mezzo pieno la voglia di misurarsi, di fare nuove sfide il bicchiere mezzo vuoto è che questa squadra lo scorso anno ha fatto 39 punti è vero che la state cambiando molto ma a infarcirla di scommesse potrebbe anche essere un rischio quanti giocatori mancano, ho messo molte cose in questa domanda quanti giocatori mancano nella vostra testa, quanti potenziali titolari al completamento di questo organico? Innanzitutto abbiamo preso un allenatore che ha molto entusiasmo ma che è un bravo allenatore perché sennò non vorrei che la scelta di Inzaghi passasse solo per il fatto emotivo che è importantissimo perché questa squadra probabilmente aveva anche bisogno di una scossa emotiva ma Inzaghi ha dimostrato sia quando ha lavorato con i giovani nel settore giovane del Milan sia quando ha fatto l'allenatore mettendo a rischio la propria carriera andando in Lega Pro e vincendo un campionato e facendo un ottimo campionato di essere un buon allenatore con uno staff di livello detto questo è proprio da lui che ci aspettiamo anche di lavorando con lui qualche indicazione io penso che la rosa sia una rosa che verrà sicuramente migliorata dagli innesti dei giocatori che abbiamo fatto sono tutti i calciatori che comunque hanno esperienza e hanno giocato qualcuno meno perché ho in scadenza di contratto nell'ultimo anno perché per qualche piccolo infortunio come Santander ma hanno comunque una carriera di partite giocate alle spalle importante e che sono i giocatori da Bologna perché noi abbiamo sempre detto che giocatori giovani, forti per il Bologna come per tre quarti della Serie A è difficile acquistarli quindi dobbiamo andare su giocatori che hanno già dimostrato di avere delle doti ma che non le hanno ancora completamente messe in mostra perché sono quelli che poi stimolati dal contesto ovviamente sia contesto, parlo anche contesto tattico, contesto ambientale dall'entusiasmo che questa nuova avventura può portare in tutto l'ambiente possono magari rendere di più di quello che hanno fatto nelle stagioni precedenti Solo per concludere, quando pensi così a Spanne quanti presunti potenziali titolari ancora mancano? Adesso vediamo se c'è la possibilità di fare qualche operazione prima del ritiro ancora quella a cui si riferiva anche prima il tuo collega Poi partiti per il ritiro ovviamente anche con le valutazioni che Enzaghi potrà fare di persona visto che si è tuffato nel lavoro vedendo le partite dell'ultimo anno ma è importante che poi possa andare in ritiro con i calciatori e apprezzarne le qualità e poi da lì magari se c'è da fare ulteriori mosse le faremo di conseguenza Buongiorno Claudio, la domanda non è sul destro calciatore perché è evidente che quando arrivano attaccanti nuovi in rosa chiaramente le gerarchie si rimescolano però dovesse rimanere destro che ha un ingaggio ancora da top player chiaramente può diventare un problema per voi gestire poi il monte ingaggio di conseguenza in proporzione visto che rischierebbe di avere l'ingaggio più alto è stato un giocatore non destinato in partenza almeno virtualmente alla titolarità è un ragionamento che avete fatto? Ma questo ragionamento l'abbiamo fatto all'inizio quando abbiamo comprato destro lo sappiamo che portando un giocatore importante che aveva uno stipendio da top club questo avrebbe potuto creare delle tensioni all'interno dello spolitoio però nella realtà non si sono mai verificate per cui il rapporto tra destro e i suoi compagni è sempre stato normale quindi non influenzato da queste diciamo dinamiche e per il futuro sarà lo stesso destro per ora è un giocatore importante secondo me del Bologna parte per il ritiro anche lui sta a lui dimostrare come tutti gli altri ovviamente di meritare una maglia titolare poi su questo mi sembra che Inzaghi è stato chiaro in conferenza stampa non fa sconti a nessuno quindi chi dà più affidabilità sotto il profilo tecnico sotto quello dell'applicazione, della volontà, dell'entusiasmo gioca A profitto del microfono sul fronte cessioni dopo Verdi, Masina, immagino addirittura d'arrivo Ferrari ci sono altre e di Francesco ci sono altri scenari che si possono aprire o siete soddisfatti complessivamente così? Quello che dobbiamo fare per costruire la squadra lo abbiamo fatto adesso abbiamo comunque un regolamento che sapete ci obbliga a 21 giocatori professionisti perché quest'anno non avremo i quattro formati nelle Academy anche se rientrano i 96 per cui alla fine avremo una rosa di 23-24 giocatori e siamo leggermente in sovranumero quindi lasciamo il tempo a Inzaghi di fare anche le sue scelte sotto questo aspetto perché poi tutti i giocatori che abbiamo in rosa hanno comunque mercato e questa è una cosa che comunque indice che effettivamente poi le loro qualità tecniche non sono poi così scarse Posso? Scusa No, me ne sono appropriato indebitamente dal microfono ti chiedo scusa la nostra mia ossessione contabile ma per tornare a quella famosa frase così che noi cerchiamo di carpirti un paio di 20 giorni fa cioè tutti i soldi ricavati delle eccessioni verranno reinvestiti senza fare i contabili però se manca poco per essere completata questa squadra allora forse non accadrà questo o pensate anche al mercato di gennaio? Allora, la frase ovviamente l'ho detto l'altra volta come quando verranno reinvestiti sono questioni legate al mercato ho detto anche l'altra volta che non restituiremo dividendi agli azionisti quindi i soldi rimarranno investiti nel club e ho specificato che talvolta si può anche investire prendendo giocatori con stipendi leggermente superiori a quello che tu puoi ovviamente permetterti in linea con i tuoi ricavi questo significa comunque rafforzare la competitività del club perché se tu dai uno stipendio più alto perché il mercato ovviamente esprime quello stipendio non perché noi ci piace elargire stipendi non fuori misura ai nostri calciatori ma significa che il mercato ti impone determinate scelte questo può anche essere un modo di reinvestire le risorse la cosa certa è che tutto quello che è stato incassato viene utilizzato per rafforzare il club quando farlo come farlo è ovviamente una nostra decisione quindi anche legata ripeto alle dinamiche che si sviluppano durante il ritiro le volevo chiedere anche questo qualche settimana fa un collega adesso comunque un collega scrive riportando un'intervista di Calleri che è l'agente di Pulgar dove comunica Calleri non è l'agente non mi ricordo chi era l'agente di Pulgar adesso probabilmente comunque l'agente di Pulgar comunica che molto probabilmente Pulgar non è intenzionato a prolungare il contratto con il Bologna ora andando a scadenza nel 2020 avendo vissuto una situazione come quella con Masina per esempio dove ci si è provato ma probabilmente non si è trovato una quadra le chiedo se anche Pulgar che è sicuramente uno di quelli che ha mercato come diceva lei prima deve essere considerato un giocatore probabilmente in partenza anche perché ricordo bene di 20 giorni fa la conferenza con Inzaghi il senso di appartenenza il fatto di ritenere Bologna come l'occasione della vita sono due elementi indispensabili per far sì che qualcuno giochi giochi quest'anno qui no? Sì il contratto di Erich comunque scade fra due anni quindi c'è tempo per parlare di rinnovo oggi è un giocatore del Bologna e quindi non mi preoccupo particolarmente credo che alla fine durante il mercato alla fine del mercato ci sediamo con i suoi agenti per cercare di trovare un accordo sul prolungamento del contratto quindi dice già che resta poi si arriva il Real Madrid no è sempre questo tutto come non ci sono incedibili in nessun club non solo nel Bologna forse mi sfugge questo fatto che non ci sono incedibili in nessun club anche a Real Madrid paradossalmente io sono perché vada no io no perché per me è un buon giocatore quindi mi piacerebbe che resti e quindi faremo il possibile farlo restare come abbiamo fatto con Adam poi noi abbiamo offerto quello che secondo noi rappresentava il massimo che la società poteva offrire a un giocatore per anzi forse anche un po' di più per rispettare anche la sua percorso di formazione il senso di appartenenza abbiamo offerto di più di quello che diciamo le prestazioni di Adam secondo noi ovviamente meritassero poi lui ha trovato giustamente magari qualcuno che gli proponeva un contratto diverso forte anche di risorse diverse perché non scordiamoci che l'Italia ormai in Europa sta perdendo competitività sotto il profilo economico rispetto parlo sempre del lato calcistico rispetto ad altri paesi per cui poi alla fine si andrà verso una soluzione in cui trasferiremo il calciatore giusto per andare un po' più dentro nelle domande che faceva prima Vitali le chiedo ma nelle strategie del Bologna di questo mercato c'è la volontà di provare non dico di prendere un giocatore di richiamo a fronte dei due anni passati brutti e a fronte del fatto che comunque la squadra è stata rivoluzionata in maniera diciamo che si proietta ad essere rivoluzionata in maniera tosta ma con tante scommesse l'obiettivo di prendere un giocatore di richiamo senza fare nomi però un giocatore pesante all'interno insomma del pacchetto che verrà i giocatori pesanti sono quelli affermati e molto costosi e questi è molto difficile prenderli quindi quelli già affermati molto costosi non li prendiamo perché non ce li possiamo permettere noi come rispetto a tutte le altre a meno che qualche club che ha lavorato molto bene che ha avuto in passato cessioni ha fatto cessioni importanti può fare qualche investimento superiore al nostro noi anche quando siamo portati a prendere giocatori in questo momento come vedete anche dai profili che hanno già qualche esperienza e che possono continuare a crescere e a dare il loro contributo nel club in un contesto diverso rispetto a quello in cui hanno giocato fino ad ora sarebbe facile oggi dirvi ah ma quando è arrivato Simone tutti boh chi è forse retrocesso no e sarebbe diciamo anche sciocco sottolinearlo però quindi non è il curriculum del giocatore precedente sono le qualità il modo in cui si riescono a fare esprimere quelle qualità il calcio è fatto anche di alchimie che nascono all'interno di un gruppo in cui i singoli si ritrovano in un senso collettivo che li esalta le qualità individuali cioè è difficile sicuramente se il pensiero è un giocatore affermato da 20-25 milioni non lo prendiamo ecco così mi dispiace dirlo lo vorrei fare ma purtroppo non rientra le nostre strategie economico sportive considerando il fatto che il mercato quest'anno chiude prima e che come ha detto prima Inzaghi ha bisogno di valutare la rosa prima di fare delle scelte vi siete dati una deadline sul quando completare la squadra oppure tutto rimane comunque aperto fino a metà agosto quando chiuderà il mercato è la prima cosa e la seconda su Palacio se ci sono delle novità e si state parlando per quanto riguarda diciamo le strategie sono come tutte le altre adesso abbiamo fatto quello che sembrava essenziale per completare per completare l'organico qualcosa magari faremo ma poi alla fine aspettiamo anche noi di vedere le evoluzioni possono nascere delle opportunità oggi che non sconosciute che vengono fuori magari ecco proprio gli ultimi giorni di mercato è ovvio che per quanto riguarda le figure essenziali nell'ambito della costruzione della squadra non puoi aspettare gli ultimi giorni però il colpo a sorpresa può sempre uscire negli ultimi giorni del mercato questo vale per il Bologna ripeto come tutte le altre 19 della serie però adesso ripeto partiamo in ritiro vediamo vediamo l'adattabilità dei giocatori anche alla scelta di modulo di Inzaghi e poi lì ci regoliamo però ripeto la squadra c'è completa oggi in tutti i ruoli per cui non ci sono necessità immediate sicuramente durante il ritiro possono nascere ovviamente suggerimenti da parte dell'allenatore che possono diciamo consigliarci di ritornare sul mercato su qualche ruolo su qualche ruolo prima non è detto non è detto che non cerchiamo top player ho detto che non li possiamo comprare già affermati perché operazioni da 25 milioni e 5 milioni netti di ingaggio non le possiamo fare perché questo è un po' lo simoro però costano i top player scusa se tu dici che stiamo cercando giovani che possono diventare dei top player nel Bologna questo lo stiamo facendo e stiamo cercando anche giocatori che possano essere protagonisti in serie A in prospettiva però devi andare su ovviamente non su giocatori già affermati ma su giocatori costosi però nati nel 99 nati nel 2000 che in prospettiva diventano e questo è il cambiamento anche un po' di filosofia cioè cercare di abbassare un pochino il livello di età anche di alcuni investimenti è chiaro che il top player già fatto se lo compra quelli che hanno già per esempio quelli che hanno dai diritti televisivi molti soldi allora due domande veloci intanto se avete se hai già fatto qualche calcolo visto che ormai sappiamo forse che la terza Palermo è salito quale potrebbe essere la cifra anche se c'è una parte basculante lo sappiamo quale potrebbe essere la cifra che Bologna andrà a prendere prossimo anno e se c'è un miglioramento velocissimamente e su quanto e quanto incide questa eventuale cifra sul mercato di oggi oppure su quello di domani l'altra cosa è devo farla sullo stadio nel senso che cinque settimane fa avevi detto che entro cinque settimane probabilmente partiva la letterina verso comune e in limit per dire ok questo è il nostro progetto diteci se possiamo farlo o meno voglio capire a che punto siete mi sai capire se non sono cinque sono sei forse sette voglio capire questo e se anche il dottor Marchi ha già prenotato uno spazio dentro un nuovo stadio perché ci sono gli spazi commerciali questo mi metto avanti perché insomma faccio questo se le piacerebbe avere dobbiamo dare attento a dirgli sì perché dobbiamo dare mediazione quindi sono due cose diritti televisivi se sei contento e quanto incide e se no sui diritti televisivi come sai perché sei attento sul tema c'è una parte che è legata ai risultati alla presenza degli spettatori negli stadi per cui è molto difficile oggi stimare l'incremento sicuramente il fatto che la quota comune passa dal al 50% e l'aver cancellato che è stata una nostra battaglia alcuni parametri che non erano modificabili come quello del numero dei tifosi che ci vedeva fortemente penalizzati porterà un beneficio questo beneficio va ad assorbire in termini di ricavi quelle che era la perdita operativa del club e ho sempre parlato che ho detto che un club economicamente sano può fare degli investimenti e quindi anche quindi sbilanciarsi il fatto degli investimenti ma dovrebbe avere almeno un equilibrio operativo cioè fra costi e ricavi di gestione e in questo caso i ricavi l'aumento dei ricavi sui diritti tifosi ci darà una mano sotto il secondo aspetto noi dello stadio parliamo poco come sai alla fine parlano un po' tutti giustamente chi con titolo come il sindaco chi con così diciamo un po' meno però gli unici che hanno fatto cose concrete siamo noi perché chi si sa un po' di costi di progettazione sa quanto può costare una progettazione preliminare di uno stadio rispetto al valore dell'opera quindi noi abbiamo messo soldi per fare questa cosa e stiamo adesso definendo dopo l'ultima variazione progettuale che è legata come sapete alla possibilità di continuare a giocare all'interno dello stadio durante i lavori e stiamo definendo i nuovi costi dell'impianto anche per l'avvicinamento delle tribune cosa che prima non era previsto quindi insomma ci sono state due variazioni progettuali legate più che altro alla volontà di non spostarsi da Bologna non manca molto per la definizione di costi il progetto è pronto il progetto preliminare è pronto e sta nel cassetto è pronto per essere consegnato manca tutta la parte diciamo economica che adesso è legata ancora alla definizione di alcuni accordi più che altro non tanto quindi per lo stadio ma per gli eventuali investitori sulla città della moda di cui ovviamente il Bologna non partecipa diciamo nel senso beneficia in parte ma non partecipa tengo a precisare che per quanto riguarda l'investimento del Bologna è solo sullo stadio tutta l'altra parte che è funzionale e sinergica perché non mi stancherò mai di ripetere che siamo l'unico paese che tra l'altro è campione del mondo di rendering e progetti non realizzati che però fa un'opera di ristrutturazione degli impianti senza l'intervento pubblico perché le risorse pubbliche oggi vanno destinate forse su progetti più importanti però è l'Italia quindi i progetti sono molto complessi molto difficili perché si sta cercando di riqualificare o impianti pubblici come il nostro o fare impianti privati solo con risorse private caso unico in tutti i paesi calcisticamente evoluti il nostro è un progetto diverso che è un progetto completamente diciamo diverso dagli altri adesso in corso in Italia perché riguarda un impianto pubblico che va riqualificato e quindi che rimarrà poi di proprietà ovviamente pubblica però anche quegli altri che sono in corso quindi o che sono stati realizzati sono tutti fatti con capitali privati che ripeto è un caso unico nel panorama diciamo dei sistemi calcistici evoluti ma anche negli Stati Uniti patria dell'iniziativa di privata gli stati o le municipalità investono nella costruzione degli stati perché portano indotto e aumentano il gettito fiscale i tempi la cosa importante sui tempi ripeto la progettazione e la economica di una cosa così complessa spiegato tante volte non è direi quasi un unicum i tempi l'unica certezza che possiamo avere è che siccome abbiamo indicato la partenza dei lavori qualora ovviamente tutto andasse a buon fine nel percorso nell'anno successivo agli europei quella sarà la partenza dei lavori poi quando arriveremo col progetto 5-10 giorni in più o in meno questo è un tema legato non solo ripeto alla nostra volontà ma anche al raggiungimento diciamo alla definizione di accordi che ci sono ancora diciamo verbalmente ma vanno poi messi ovviamente scritti sì ma penso per quella deadline la manifestazione di interesse arriverà di interesse di interesse